Quando ti è arrivata la chiamata del Palermo, subito un passaggio da Catania a Palermo, non è mai semplicissimo, però uno potrebbe dire, vabbè, chissene, sono un professionista, lo faccio. Però ecco, c'è stato un momento in cui hai avuto, non un tentennamento, però ci si pensa anche a queste cose. Allora, ti dico che io ero veramente legato ai colori del Catania, perché mi piaceva come società, prima ancora che arrivassi quando ero al Brescia, e mi piaceva tutta la struttura, che era una struttura importante. Mi aveva chiamato fortemente il direttore, quindi ci ho creduto al progetto. Poi purtroppo ci sono stati tanti problemi, però alla prima chiamata del Palermo, per me il Palermo è una società come il Catania, molto importante, una delle più importanti in Sicilia, e quindi non potevo rifiutare la chiamata, anche perché conosco il mister, conosco il direttore, è una bellissima squadra, siamo forti e secondo me possiamo giocarci le nostre carte. Ho sentito con Mascara che lui ha fatto il passaggio un po' come me, però dal Palermo al Catania, se non ricordo male. Mi sono sentito con lui, gli ho chiesto le sue... come è andata la sua esperienza, mi ha detto che comunque, sai, Catania e Palermo c'è un po' di assio, ecco. Però questo è il nostro lavoro e siamo professionisti. Leggi Turris, ma questi giocano molto molto bene, pensi che sia facile, in realtà hanno un bel 3-4-3, aggressivi, giocano. Questo campionato non c'è mai da abbassare la guardia con nessuna squadra, purtroppo, no, per fortuna, è un campionato bello, tosto e bisogna stare sempre sul pezzo e non mollare mai. Questa è la verità. Noi in partita, che si chiama Catanzaro, Bari o Turris, non ci deve fregare di niente. Dobbiamo andare in campo concentrati, come abbiamo fatto nell'ultima gara, e dimostrare il nostro valore. Il pubblico di Palermo può essere... ti può dare tanto e ti può anche togliere tanto. Ecco, dipende da voi accenderlo. Togliere perché? Alla fine penso che remiamo tutti dalla stessa parte. Loro ci spingono e noi dobbiamo cercare di farci spingere. Tanto penso che il pubblico palermitano voglia vedere che studiamo la maglia, che corriamo, che ci danniamo in campo. E questo penso che non è mai mancato nelle partite. Quindi, secondo me, ci può solo aiutare, non togliere. La mia prima partita al Barbera, non ti dico che mi tremavano le gambe, perché una volta che fischia l'arbitro non senti più il pubblico, non senti più niente. Però l'impatto è stato veramente qualcosa di emozionante. Anche se ho giocato a Bari, dove lo stadio è anche un po' più grande ed era abbastanza pieno, però il Barbera mi ha fatto un certo effetto, non lo so perché. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti